Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova batteria di domande. Bando alle ciance e parto subito con la prima domanda. Empatia e ascolto sono caratteristiche della comunicazione non direttiva per chi? Rogers. Seconda domanda. Per quale corrente la totalità o forma delle cose ha una valenza completamente diversa dalla somma delle singole parti? Gestalt. Terza domanda. Chi nell'opera Umanesimo Integrale chiarisce il concetto di personalismo? Maritano. Quarta domanda. Chi parla di intelligenze multiple? Gardner. Quinta e ultima domanda. La prossemica fa parte della... Comunicazione non verbale. Bene ragazzi, con questa quinta domanda le domande di oggi sono finite. Vi ricordo sempre che se avete commesso qualche errore e volete approfondire la questione potete cercare questi argomenti sui miei video all'interno del canale YouTube. Un saluto a tutti.